Occhio giornali di mercoledì 1 settembre, buongiorno e ben ritrovati a tutti voi cari Siamo in diretta su tutta la regione Marche, sul digitale terrestre, siamo in diretta anche sulla piattaforma Facebook, siamo on demand su occhiolanotizia.it Insomma, tutti gli strumenti possibili, immaginabili, tutti i device a vostra disposizione per seguire questi 20 minuti Nei quali cercheremo di ragionare, commentare un po' le pagine dei giornali che abbiamo selezionato per voi oggi Innanzitutto partiamo dal Santo del Giorno perché questo è quello che ci va stare un attimino tutti quanti tranquilli Perché su questo c'è poco da dire, non si discute, non ci sono fazioni da una parte e dall'altra Oggi è Sant'Egidio, facciamo gli auguri a tutti gli Egidio che sono all'ascolto Il sole è sorto alle 6.31 e tramonterà alle 19.45 Adesso andiamo a vedere invece il tempo Dal sito della Protezione Civile delle Marche per oggi 1 settembre avremo un cielo sereno o irregolarmente nuvoloso Soprattutto al mattino con addensamenti maggiori nella parte meridionale della Regione Dove ci sono possibili residui rovesci sparsi al mattino, più probabili in collina e nel settore costiero Lo vedremo tra poco Poi domani, giovedì 2 di settembre, cielo sereno su tutta la Regione Venerdì ancora un po' di pioggia soprattutto per quanto riguarda il settore appenninico, il settore interno Lieve instabilità nella giornata di sabato Allora le previsioni abbiamo visto, costa meridionale quindi la parte sanbenedettese potrebbe essere interessata da ancora qualche residuo piovasco Per vedere se è vero andiamo dalla nostra Nicoletta Pompei che è collegata in diretta da San Benedetto dalla spiaggia Bagni Nick Allora buongiorno, in effetti i cumulonembi in fondo ci sono e vedo anche qualche scroscio di pioggia sul mare Però lì sulla costa mi pare che sia tutto sereno Sì, sì, è sereno, però poco uscirà il sole, dai, ce la possiamo fare anche oggi Ieri com'è andata? Bene direi insomma, dai, tutto somma Sì, dai, è andata bene, giusto ieri pomeriggio, un po' di nuvole ma niente di che, anche perché è venuto in serata quindi alla fine è andata anche bene Le temperature aumentano nel corso della giornata, vedo che le persone comunque... Sì, stamattina le devo dire si sta bene Eh, si sta bene, si sta bene, vedo che c'è gente che passeggia anche lì a San Benedetto del Tronto, nella spiaggia che fa attività di jogging, passeggio e quant'altro Allora oggi soltanto un flash per ricordare quali sono i servizi che fate, che avete messo in campo nella vostra spiaggia Che lo ricordiamo, ha quasi un centinaio di ombrelloni, quindi coccola ogni giorno parecchi clienti Sì, abbiamo in spiaggia delle piccole cassaforti, noi diamo i lucchetti con la chiave al cliente, il cliente mette i propri oggetti dentro Poi chiude, poi andrà a fare una terminata tranquillamente, adesso le faccio vedere Sì E' un servizio interessante questo Sì, 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 diciamo di sì, ecco, facciamo il meglio per offrire ai nostri clienti, ecco, per farli stare bene, per farli stare tranquilli, ecco Poi ovviamente c'è la ristorazione, poi c'è cosa c'è? Sì, abbiamo una spontanea veloce, si può mangiare sempre, a qualsiasi ora Abbiamo anche una piccola biblioteca all'interno dello stabilimento balneare che va molto Il cliente arriva, prende il libro, lo istituisce quando riparte E' una cosa molto apprezzata, ormai sono tantissimi anni che l'abbiamo E abbiamo anche una cabina di vita al cambio del neonato Dove dentro c'è un fasciatoio, mettiamo a disposizione pannonini, salviettine, creme per il neonato Quindi la famiglia, che è il bimbo piccolo, sa che dietro non si deve portare nulla Perché trova qui tutto il stabilimento balneare Perché c'è ancora gente che non guarda i smartphone ma legge i libri Che è una rarità, ma in realtà forse vanno stimolati un po' di più Quindi voi fate bene Sì, è vero Allora, per salutarci Nicoletta vorrei soltanto ricordarvi che siccome sabato è l'ultimo collegamento Se vi va di fare una foto tutti insieme il gruppo di lavoro della vostra spiaggia Noi volentieri lo faremo conoscere, questo gruppo di lavoro, ai nostri telespettatori sabato Fate una foto di gruppo appena avete la possibilità Grazie Come no Buon lavoro, buona giornata a voi A San Benedetto del Tronto Grazie, arrivederci San Benedetto del Tronto, la spiaggia, la riviera delle Palme Una delle riviere più belle dell'Italia Allora, andiamo adesso a leggere i giornali Chiudiamo questa finestra che ci porta ogni giorno Ormai durante l'estate ci ha portato nelle spiagge di quasi tutta la regione Ancora qualche settimana Poi chiaramente questa finestra la chiuderemo per ovvie ragioni E adesso, dicevo, andiamo a vedere i giornali Cominciamo dall'arresto del Carlino questa mattina I test salivari, i test salivari a scuola Questa è la novità C'è un piano che ha studiato la regione Che ha incassato il disco verde dal governo Intanto solo il 22% degli studenti ha avuto la doppia dose A centropagina la fotografia che riguarda il camper a Gabice Mare Gabice era uno dei comuni con meno vaccinati Ma a quanto pare questo camper ha risvegliato un po' la voglia E quindi risponde presente E a Gabice, insomma, diversi si sono presentati per farsi il vaccino appunto Poi c'è la cronaca in primo piano Vedete, Badante aggredisce l'anziana E poi la polizia E poi aggredisce anche la polizia Quindi è stata arrestata Un infortunio sul lavoro Una gamba schiacciata nel nastro trasportatore Grave un operaio Poi rubano in casa e scappano Subito prese due donne di etnia Roma E ad Apecchio, 77 anni dopo Torna nei luoghi in cui fu salvato il padre Nazista disertore La pagina, sempre la prima pagina del Carlino Di taglio basso qui ha lo sport Come sempre Camara dice VL mi manda Scariolo Il pivò sottutto di Pesaro grazie a lui E ora c'è Petrovic a darmi la carica Mentre sul fronte calcistico Vis dalla regina Riva Rubin Quattro cessioni Il mercato si chiude con l'acquisto del terzino Andiamo a vedere il Corriere Adriatico Edizione di Pesaro anche qui Allora, da Fano la fotonotizia Arzil, il litorale torna di nuovo balneabile Comunicate le nuove analisi dell'ARPAM Mentre il titolo d'apertura è per i prof Che saranno senza lavoro Perché si sono rifiutati di farsi il vaccino E quindi senza Green Pass Lo Stato cosa fa? Manda la gente a casa senza lavoro Senza lavoro significa senza soldi E senza soldi significa povertà Questo è quello che fa lo Stato italiano Questo è quello che fa lo Stato in questo momento Ditemi voi adesso se questa è una cosa accettabile Che possiamo accettare senza muovere un dito Prof senza lavoro Lo Stato che manda a casa la gente Non rinnova contratti Che manda la gente In uno stato di povertà Questo è lo Stato italiano Questa è la dittatura Alla quale stiamo andando Ogni giorno E oggi è il primo settembre Ed è una giornata importante Lo vedremo tra poco Perché da oggi Da oggi si allarga Il campo d'azione Del Green Pass Il certificato servirà a scuola Nelle paritarie incarichi Non riconfermati a docenti A contratto E come dicevo Test salivare Approvato dallo Stato Regione Lo screening che cercherà di intercettare Il Covid Poi sempre dalla prima pagina Del Corriere Adriatico Anche qui la cronaca Sorprende in casa Due giovani ladri Le fa arrestare Un'anziana che chiama la polizia La badanta Aggredisce gli agenti E poi questo incidente In azienda Un operario La gamba incastrata nel rullo E dunque è stato portato In ospedale Andiamo a Anche le Paralimpiadi Non dimentichiamolo Ci sono degli atleti Paralimpici Che Gareggiano A Tokyo Ci sono anche le prime medaglie Per i marchigiani Alle Paralimpiadi di Tokyo Con i due argenti Della Civitanovese D'adduzione Assunta Legnante Nel disco E del fabrianese Giorgio Farroni Nella crono di ciclismo Quinto posto Con record italiano Invece per il Monte Cassianese Di Aga Di Eng Nei 400 metri Ecco Questo è Il panorama Della prima pagina Colpo d'occhio Dei due quotidiani Che prendiamo Tutte le mattine In esame Allora Adesso ripartiamo Questo commento Alla stampa Ripartiamo Dalla pagina 3 Del resto Del Carlino Di oggi Oggi È una giornata calda È una giornata Importante Potrebbe essere Una giornata Come dire Di svolta Perché Sapete Sono stati annunciati Dai cosiddetti No Green Pass No Vax Delle manifestazioni Di protesta Manifestazioni di protesta Nelle stazioni Nelle più importanti Stazioni italiane Tra cui Anche Quella di Pesaro E allora Già I giornali I giornali Che sapete Sono tutti Dalla parte Stanno con i dittatori Tra virgolette Ecco qua Cosa cominciano a scrivere Mettono le mani avanti Toleranza zero Contro i Novax Rischio scontri Allerta Nelle stazioni Oggi la protesta Per il Green Pass Sui mezzi pubblici Tam tam Sui social Fermiamo i treni Minacciato Anche Di Maio Ora è chiaro Che L'augurio Che ci facciamo tutti Quelli che perlomeno Hanno ancora un po' Di sale in zucca E che Naturalmente Oggi Non accada Proprio un bel nulla Ovvero Che ci sia soltanto Gente A manifestare A esprimere Il proprio dissenso Democraticamente Fuori dalle stazioni E finisce lì Chiaramente C'è il problema Degli infiltrati C'è il problema Di chi Non aspetta altro Che accendere la miccia Per far saltare Tutto per aria E quindi accusare I no Green Pass Di essere fascisti Di essere terroristi E chi più ne ha Più ne metta È la classica bustina Di cocaina Messa nella giacca Dell'incauto Signore E poi Quello che chiama La polizia Dice lui Ha la droga Nella giacchetta È un po' Questo il sistema Che è vecchio Come il mondo Ma che funziona Sempre Quindi Attenzione agli infiltrati Attenzione a quelli Che addirittura Possono essere pagati Perché funziona così Io ti pago Ti do Un po' di soldi Tu vai lì Spacchi tutto E poi diremo Domani con i titoloni A tutta pagina Che i Green Pass I no Green Pass Sono dei violenti Degli assassini Questo è la È quello che ci aspetta In realtà Mi auguro Che questo non accada Anche perché Che cosa succede Non è che voglio difendere Chi dice no Green Pass Però Mi pare che sia corretto Per darvi una giusta informazione Ribadire anche un concetto Ovvero Che questi signori Che adesso Oggi Saranno nelle stazioni A protestare In realtà Ogni sabato Per diverse settimane Hanno protestato In tutte le piazze Pacificamente Sfilando Eccetera Eccetera Ma senza che nessuno Dei mezzi di informazione Eccetera Avesse detto una parola Sì Quattro gatti In realtà Milioni di italiani Nelle settimane precedenti Ogni sabato Hanno manifestato Per dire no Al Green Pass Contro questa Dittatura sanitaria Non sono stati calcolati Da nessuno Ignorati dalle televisioni Ignorati dai giornali Ora Ricordo benissimo Un camionista Che disse Finché non bloccate L'autostrade Voi potete manifestare Anche fino a Natale Nessuno vi considererà Cominciate a bloccare Le strade Un camionista Lo ha scritto Ricordo bene Nella chat E allora Le cose cambieranno Di lì L'idea Di bloccare Le stazioni Di bloccare I treni Nel giorno in cui Oggi Entra in vigore Il Green Pass Per andare Sui treni A lunga percorrenza Non a quelli A breve percorrenza Quindi per essere onesti Fini in fondo Diciamo le cose come stanno Poi ci auguriamo Che oggi Non succeda nulla Di tutto questo Che viene ipotizzato Dai giornali Che già Mettono benzina Sul fuoco Ma Che alla fine Si faccia Come è successo Nelle altre settimane In Italia Ci sono Dai 12 E 15 Milioni Di persone Che non vogliono Vaccinarsi E questi Probabilmente Andranno Ascoltati In qualche modo In un modo o nell'altro L'unica cosa Poi chiudo Che secondo La logica Potrebbe giocare A favore Di chi Appunto Non vuole vaccinarsi E non vuole subire Questa imposizione È quella di aspettare Di aspettare Semplicemente Questa è l'arma migliore Che abbiamo Nel frattempo Protestare civicamente In maniera pacifica Ma il tempo Darà ragione Perché Perché Questa cosa Dell'obbligo vaccinale Prima o poi Cadrà Su se stesso Io che non voglio vaccinarmi Se sto attento Posso anche superare 20 ondate Di covid Non so Se 20 vaccinazioni Una dietro l'altra Le posso superare Quindi Da questo punto di vista Bisognerà avere Soltanto Un po' di pazienza E adesso Grazie anche per la pazienza Che avete dovuto Nel ascoltarmi Però Queste cose Le diciamo noi Piccola televisione Di città Non le sentirete Da nessuna parte Ora Che vi piaccia o no Ma almeno vi ho dato Uno spunto per riflettere Altrimenti A guardare Le altri canali Uno sente solo Le stesse cose Le prendiamo Come dogma di fede E su quelle Ci dobbiamo credere Punto e basta Invece così Magari adesso Un pensiero Ce lo fate Poi Non sono contro i vaccini Ognuno faccia come gli pare Ma liberamente Novax Marciano Sulla stazione Di Pesero Minacce anche Alla Morani E lei Che fa Denuncia tutti Mobilitate le forze Dell'ordine Per una manifestazione Preannunciata Oggi alle 14.30 La stazione di Pesero Barricate contro Il certificato Verde Quindi anche La stazione di Pesero Come dicevamo Sotto controllo Da parte Delle forze Dell'ordine Fin dalla notte scorsa Si vogliono evitare Occupazioni O manifestazioni Di protesta Da parte Appunto Dei Novax Docente A contratto Ma non vaccinati Dunque Primi licenziamenti In carichi Non rinnovati E la cosa Che fa rabbia È vedere Che i giornali Ci godono Ecco Questa è una cosa Che io non capisco Cioè Un giornale Adesso non dico Il Corriere Nello specifico Ma la stampa Eccetera Che dovrebbe essere Dalla parte dei lettori Dalla parte del lavoro Dalla parte dei cittadini È vero che il mondo Sta andando al contrario Ma qui sta andando Troppo al contrario Cioè Che addirittura Ci goda Quando scrive i titoli Quando pubblica qualcosa È qualcosa di diabolico Cioè È una cosa Che io non riesco a comprendere Comunque Va beh In carichi Non rinnovati Le segnalazioni riguardano Gli insegnanti Delle scuole paritarie L'avvocatessa Giampaoli Segue decine di professori Nel privato Certamente La situazione È un po' più complessa Perché Insomma Sul privato Effettivamente C'è C'è qualche problema in più Il privato Fa un po' quello che gli pare Lo sfogo di un docente Che senza Green Pass Si è visto Non rinnovare il contratto Si tratta di un insegnante Di religione Nella scuola paritaria Dell'Arcidiocesi Di Pesaro La procedura Delle scuole private Paritarie È diversa Rispetto agli enti pubblici E proprio All'Arcidiocesi Il docente Che non Quest'anno Non potrà insegnare Ha indirizzato Più lettere In cui esprime Il suo pensiero E ovviamente Non è il solo Tanto che L'avvocatessa Isabella Giampaoli Sta seguendo Sempre più persone Per un sostegno Legale E questo insegnante Si sfoga Quest'anno Dice Non potrò Più riprendere Il mio servizio Nella scuola Dove insegno In quanto L'ufficio scuola Della mia diocesi Ha vincolato L'individuazione Dei Docenti Al possesso Da parte loro Del marchio verde Ovvero Del Green Pass Capito? Ecco Quindi Anche l'Arcidiocesi A un certo punto Ha deciso Perché ci vuole Il Green Pass E punto Quindi tu Stai a casa Senza Senza lavoro E la Morani Contro gli odiatori Social Che cosa fa? La deputata Del Partito Democratico Ha deciso Di Querelare Questi Ater Si dicono Cioè Persone che si nascondono Dietro un nickname E che di lavoro Cosa fanno? Scrivono cose Terribili Nei confronti Di chi Scrive su internet Quindi vengono presi Come bersaglio E in questo caso Il bersaglio E la Morani Come possono essere altri Eccetera Eccetera Quindi Lei però dice Io Denuncio tutti Vogliamo cambiare invece La sanità Nelle Marche La rivoluzione Dopo le dimissioni Della dirigente La dirigente Di furia L'assessore Baldelli Dice ringraziamo di furia Per il lavoro svolto Ma ora è necessario Un cambio di passo Rispetto al centro-sinistra Il nome più gettonato Per la successione Quello di Nadia Storti Direttore generale Asur E molto apprezzata Anche dall'assessore Salta Martini Adesso invece La cronaca La cronaca Ci riporta di nuovo Sul Corriere Adriatico Per questo incidente Che è avvenuto Anzi no Per queste due donne Che sono state Fermate Sono state sorprese A rubare in casa Il colpo è avvenuto Nel pomeriggio In un'abitazione Di Viale Verdi A Pesero La polizia blocca Queste due persone Sono due donne Nomadi Di 25-26 anni Che si sono Introdotte In un appartamento Della palazzina In una zona Centromare A Pesero La polizia Le blocca Sulle scale Queste due Giovani donne Che stavano Fuggendo E questo è perché Sono state sorprese Appunto All'interno Di questa abitazione Mentre C'è Quest'altra notizia Sempre dal Corriere Adriatico Riguarda Un abbadante Che avrebbe Aggredito Un'anziana Di 80 anni Un abbadante Che ha maltrattato Avrebbe maltrattato Questa donna L'abbadante Insomma Lei ha cercato Di Non l'abbadante Questa signora Questa anziana Di 80 anni Ha cercato Di schiacciare Il pulsante Del salvavita Per chiamare Aiuto Però è stata Nel frattempo È stata Aggredita Da questa Da questa donna Si tratta Di un'Ucraina Di 52 anni Arrivata Temporaneamente In sostituzione Della sua Abadante Principale Però Insomma È andata Così Poi invece Sempre in questo Articolo Vi segnalo Anche un'altra Notizia Di cronaca Martedì sera I poliziotti Di Pesaro Sono stati chiamati Da madre Figli Minorenni Dopo l'arrivo Del padre A casa L'uomo Un moldavo Di 43 anni Era tornato Praticamente Ubriaco E ha iniziato Ad inveire Contro i familiari Scagliando oggetti E su pellettili Ovunque Mentre Un operaio Di 60 anni Sempre dal Corriere Adriatico Si è gravemente Infortunato Sul lavoro Ieri mattina Alla Metalplex Di via Dell'Industria Chiusa Di Ginestreto Intorno alle 10 del mattino Per cause che ancora Sono in corso Di accertamento La CGL Incontra i lavoratori La CISL Chiede invece Più controlli Poi In via Cavallotti Un malore al volante Si schianta Con la sua automobile E sotto Una gara di aiuti Per le famiglie afghane Di Cantiano Il più piccolo Di questi profughi Ha solo 8 mesi Il più grande Ha quasi 6 anni Sono 8 persone In tutto I bambini Delle due famiglie Afghane Che sono ospiti Dell'albergo Cordelli Di Chieserna Chieserna Di Cantiano Struttura d'accoglienza Che negli anni scorsi Ha ospitato anche Altri numerosi profughi La pagina di Fano Invece si occupa Della qualità Della qualità Dell'acqua Nello specchio Antistante Il torrente Arzilla Il mare di Arzilla È tornato balneabile In 5 giorni Spariti I batteri fecali I campionamenti Dell'ARPAM Sono stati eseguiti Lunedì Dopo la riattivazione Degli scolmatori Per le piogge Si conferma Che l'inquinamento Massivo È stato straordinario Ma il problema resta Mentre al Pincio di Fano Un ventenne fanese Anche se poi Di origini straniere È stato arrestato Perché Ha ceduto Secondo l'accusa Per lo meno 8 grammi di marijuana A un ragazzino Di 17 anni Mentre qua sotto Sempre dalla pagina di Fano Federcaccia Confronto con l'assessore Carloni A Tre Ponti Sono state discusse Le questioni irrisolte Oggi Primo settembre Alvia l'attività venatoria Quindi Si riapre la caccia L'assemblea Che è stata convocata Per la prima volta Dopo il 2019 Causa del Covid È stata presieduta Da Paolo Antonioni Presenti anche L'assessore regionale Alla caccia Mirko Carloni E il sindaco di Fano Massimo Seri La pagina di Fano Invece del resto del Carlino Apre con i soldi Per il tetto Del Polo 3 La preside Ugello Dice da 5 anni Un'ala della Petruccia Era completamente interdetta Lo vedete qui in questa fotografia Questo buco Qua sopra E arrivano questi soldi Con 2 milioni e mezzo di euro Dovremmo riuscire a rendere funzionale L'intera struttura Poi a Sant'Andrea in Vilis Invece qui c'è la cronaca Qui di spalla I lavori stradali Hanno provocato Uno schianto Dove è rimasto ferito Un ragazzino di 17 anni Che era in sella Dal suo scooter Un ragazzino di Pesaro Un pesarese Che percorreva La strada provinciale Di Sant'Andrea Scendendo in direzione Fano Dove all'altezza Dell'oasi dell'accoglienza È stato centrato Da uno dei mezzi Impegnati Per i lavori Della rete Alla rete idrica Da Senigallia invece Il problema della fondazione Che è finita nel caos Si dimette tutto Il consiglio di amministrazione Città di Senigallia Il presidente uscente Corrado Canafoglia Dice la situazione finanziaria È grave Perdite che arrivano Dal passato La replica Campanile Buco di 4 milioni E mezzo di euro Dimezzato dagli ammortamenti E sempre da Senigallia Corriere Adriatico Però Sfera Il rapper Il trapper Sfera e basta Rinvia il suo tour E lui dice Siate comprensivi Ma per Corinaldo Non si è mai scusato Dice Giuseppe Orlandi Il papà Dell'unico figlio Che aveva Mattia Che è morto Nella tragedia Appunto Di Corinaldo Sfera e basta Ha rinviato il suo tour A settembre A causa del covid Chiede comprensione Ai suoi fan E dice che si sdebiterà Un atteggiamento diverso Ovviamente Da quello riscontrato Finora dai familiari Delle sei vittime Della Lanterna Azzurra Nessuna scusa pubblica Per loro E nessun impegno Per i giovani Mentre sarebbe potuto Diventare paladino Del divartimento In sicurezza Dopo quanto accaduto E intanto Sempre dalla pagina Del Corriere Vandali e bagni 26-27 Tappeto elastico È stato tagliato Mentre a Montemarciano Crepe sui muri Chiusa la palestra Sotto i locali Della scuola Chiudiamo con la pagina Dello sport Dello sport Soltanto la VL Questa mattina La VL Oggi in Croazia Sfida L'Olimpia Cedevita Alle 17 Ad Abbazia Prima amichevole ufficiale Domani Jones Sarà invece A Pesaro Oggi Alle ore 17 La Carpegna Prosciutto Scenderà in campo Ad Abbazia Per la prima partita ufficiale Del suo Precampionato Noi invece scendiamo in campo Sul nostro terreno Ormai di gioco consueto Ovvero il nostro territorio Quello che conosciamo bene Anche grazie alle vostre segnalazioni E scenderemo in campo Tra poco Con le nostre Attrezzature Con le telecamere I microfoni Per registrare E fare Preparare il telegiornale I servizi Che andranno in onda Questa sera Alle 20 e 30 Allora vi aspettiamo A questo ormai consueto appuntamento Con l'informazione locale Intanto passate una buona giornata E arrivederci Grazie a tutti